Questa sera alle ore 22 riapre il tratto di superstrada Fano-Fano Sud. Pavimentale infatti ha terminato i lavori di innalzamento del ponte necessari per realizzare il nuovo svincolo autostradale e malgrado qualche piccolo disagio il grosso del lavoro è stato completato. Lo stesso Assessore Fanesi ha ringraziato i cittadini per la pazienza, la Municipale per il supporto e l'Azienda per il rispetto della tabella di marcia. Per un lavoro che termina questo fine di settimana, lunedì si aprirà un nuovo importante cantiere nella zona sud della città necessario per realizzare l'allacciamento fognario tra il depuratore e il nuovo centro commerciale COP che sorgerà di fronte all'attuale Comet lungo la Statale 16. Per realizzare questo supermercato verrà creata una nuova linea fognaria che appunto da via Arcevia, diciamo lungo la Statale 16, lungo via Lepiceno, arriva fino al piazzale dell'albergo Metauro. Per permettere questi lavori che saranno ovviamente sospesi durante il periodo di Natale, da lunedì mattina sarà interrotta una delle due corsie che appunto tra via Fraghetto e lungo la Statale 16 permettono il senso unico a due corsie. Sarà chiusa una corsia, ci potrebbero essere delle code, ovviamente chiediamo ai cittadini di prestare assenzione e la segnaletica sarà messa in campo. Avvisiamo la popolazione che chi deve percorrere quel tratto di strada soprattutto venendo dall'ex zuccherificio verso Fano potrebbe avere dei problemi fino al 24 di dicembre quando poi i lavori saranno sospesi e saranno ripresi il 7 gennaio. Lì si creerà una nuova rete fognaria, si creerà lungo la Statale una nuova rotatoria, si faranno dei sottopaci. Quindi è un'iniziativa che porta disagi ma porterà in prospettiva un miglioramento della viabilità non solo carrabile ma anche ciclistica e perdonale. Lo scavo sarà lungo circa 700 metri e servirà ad accogliere una tubazione del diametro di 40 centimetri che permetterà anche ai residenti di allacciarsi alla rete di acque nere. Il cantiere sarà aperto sul lato del parcheggio dell'albergo Metauro e procederà verso Fano. In fondo a Via Arcevia verrà realizzata una nuova rotatoria a compensazione degli oneri di urbanizzazione per rendere più sicuro un punto nevralgico della viabilità sud.